Produciamo troppi rifiuti. Cominciamo a ridurli. Porta il tuo pranzo in ufficio e gli alimenti in generale dentro contenitori riutilizzabili. La prossima volta che fai la spesa, portati una borsa di tessuto e se utilizzi le buste del supermercato, riutilizzale ancora in casa e per la prossima spesa. Quando non ti servono più, cerca un contenitore per la raccolta differenziata della plastica. Quello che fai conta.